Al via la seconda edizione della Festa del Mare. Dal 3 al 18 agosto Bari sarà al centro di una serie di eventi gratuiti che arricchiranno le serate dei turisti e di tutti quei baresi che non vanno in vacanza. Un ferragosto allegro e festoso dunque con un'offerta di spettacoli capace di accontentare tutti i gusti. La Festa del Mare è il frutto di una forte sinergia tra Comune di Bari, Regione Puglia, Puglia Promozione e Teatro Pubblico Pugliese. Le iniziative che spaziano dal teatro alla danza alla musica dal vivo, DJ set che ogni giorno animeranno la città vecchia ma anche altri quattro quartieri della città di Bari. La programmazione coinvolgerà i luoghi storici della città, il Fortino di Sant'Antonio, Piazza Ferrarese, Piazza Mercantile, Piazza Eroi del Mare, Piazza della Torre a Torre a Mare, Piazza dei Migli a Santo Spirito, il nuovo Waterfront di San Girolamo e il Teatro Margherita. Tra gli eventi da non perdere il mercatino di libri e vinili dal 5 al 11 agosto al Fortino è la mostra fotografica on board curata da Fest che dal 3 al 31 agosto sarà ospitata all'interno del Teatro Margherita. Grazie al lavoro di fotografi internazionali che vedranno anche mescolarsi con l'arte delle fotografie di lucaturi nei canocchiali che si affacciano sul mare e fotografie di porti visti dall'alto di Federico Wiener con quest'opera che si chiama Ultradistanzia in collaborazione con Google Earth prenderà anche il porto di Bari insieme agli altri otto porti internazionali di tutto il mondo. questa fotografia del porto di Bari sarà applicata sul pavimento del Margherita quindi si potrà camminare sul porto di Bari e poi ci sarà anche l'installazione video del lavoro di Jasmine Pignatelli che con il codice Mors ha applicato con punti e tratti d'acciaio sul palazzo di San Girolamo che si affaccia sul mare quest'opera verrà riproposta nel Margherita con una videoproiezione del lavoro e del backstage svolto per tutto il mese di maggio di quest'opera. Un cartellone ricco per movimentare Bari ormai sempre più meta turistica che vedrà proseguire la programmazione anche nei mesi di settembre e ottobre. Settembre e ottobre è un respiro lungo vogliamo dare alla città e ai cittadini la possibilità di immaginare una Bari non soltanto ad agosto ma anche a settembre e ad ottobre con iniziative che vedranno protagonisti la città metropolitana con dei momenti di concerti di musica dell'orchestra metropolitana a Santa Scolastica e a San Pietro e poi le giornate del patrimonio dal 21 al 27 settembre e ancora un mese di iniziative dedicate alla cultura enogastronomica con una mostra di prodotti grazie alla Coldiretti e ad una mostra di reperti archeologici sul vino a Santa Scolastica e delle degustazioni grazie all'Associazione Italiana Sommelier e alla premiazione del Miglior Sommelier di Puglia. Poi ancora abbiamo le iniziative che conoscerete da 30 anni ormai a Bari di Time in Zones che vedranno il 21 e il 22 settembre due concerti molto importanti di Surma e Aldoum e grazie un'altra novità all'ideazione e programmazione del lavoro di Gianluigi Trevisi abbiamo il premio Nino Rota un'anteprima a Torriammare con un concerto di Franco Piersanti uno dei maestri allievi di Nino Rota che celebreranno l'opera di Nino Rota e che vedranno un concerto delle musiche di Montalbano suonate dall'orchestra della Fondazione Petruzzelli.